Sarnese, Sassari Latte Dolce, pronti ad addentrare. In porta il solito Bonucci, la difesa 4 con Manuzzi e Marini. Confermati a Sterni, torna titolare Callegari al fianco di Pezzi. Incontri disputati, la mediana 3 con Vecchione, Mancino e il capitano Granata Uliano in attacco al fianco di Montini e Iannone. Di nuovo partono dalla panchina. 0-1, mentre intanto è cominciato il match, buon divertimento. Intanto lo scambio corto, Iannone prova ad andare con il destro a giro. Il pallone alto, allarga di nuovo da Iulano, Iannone, il pallone dentro. L'occasione ancora Iannone, con il destro smorzato. Sassari in 10 sugli sviluppi di questo corner che parte adesso, di nuovo corto. Uliano mette il cross, la deviazione di testa. Per supportare la causa sarnese, mette il cross. Pericoloso intervento a uscire da parte dell'esterno Barraca. Ancora Iannone a tenere il pallone davanti. Contro la porta di Marano, finta di Vecchione. Va Liurni, la botta potente di destra. Il cross al centro, attenzione! La sovrapposizione di Mannino. Sarnese che continua ad attaccare, galvanizzata anche da questa occasionissima di Mancino. Iannone, il dribbling, si prende il fondo, il cross! E arriva il vantaggio a Sarnese con l'incornata di Montini. Al minuto 18, è per la prima volta in questa stagione allo squittieri. La Sarnese è in vantaggio. Contro un Sassari, in questi primi 20 minuti, apparso in difficoltà, ma che adesso guadagna calcio di punizione. Il pallone teso di Orlando esce. Sassari in latte dolce con Mario Corcione, che ha avuto l'occasione di calciare. E adesso ci prova anche dalla distanza. Anversario Liurni deve subire anche il secondo pressing. Vecchione mette il cross, arriva Mancino. Il pallone resta lì pericolosamente. Intanto Sassari che adesso può procedere con il calcio di punizione quando siamo al quarantesimo. Corcione con il sinistro teso. Il pallone prende l'esterno della rete. Iannone, il pallone messo giù splendidamente. Iannone ha un'occasione. Dribbling, doppio dribbling. Iannone, triplo dribbling. Iannone stringe il destro. Iannone, Liurni, con il gioco di gambe. Liurni proprio su Eddie Castro. Liurni, poi mette il cross. Cabeccia vede Brian Bonucci fuori dai pali. Ci ha provato. Coné deve tornare all'indietro. Il lancio per Loru che mette benissimo giù il pallone. Prova il dribbling. Loru, murato da Callegari. Iannone parte. Il contropiede sarnese. Montini, servito bene. Allo spazio. Va Montini. Fischia l'arbitro. Questa è l'ultima occasione del primo tempo. Va diretto verso la porta. Forse il palo. Poi la deviazione. Finisce qui. Non c'è angolo. A tempo ampiamente scaduto. Arriva l'occasionissima per la formazione sarda di riportarsi in parità. Per la prima volta, ineditamente, da Gabriele Setti in attacco. Questo mentre intanto inizia il secondo tempo. Buon divertimento. Il controllo forse con una mano. Non ravvisato dall'arbitro. Va Eddie Castro. Però Vecchione in pressing. Riesce a strappare un ottimo pallone a corcione. E allora Iannone in posizione di offside. Sul punto di battuta proprio Iannone. Con il destro che si è conquistato la punizione. Va diretto in porta. Il tempo anche per la conclusione che non arriva. Poi scarica. So fuori. Barraca. Prova la conclusione dalla distanza. Romarini. Castro. Vuole lui il sinistro. Fa proseguire per la regola del vantaggio l'arbitro. Iannone entra in area. Iannone. Per tenere questo pallone. E in qualche modo arriva l'occasione per Montini. Che calcia col sinistro. Castro contro Cross. Atterrato in area di vigore. Corcione. Poi Loru. Al centro. Rischia qualcosa la Sarnese. E Di Castro. Trova il diagonale perfetto. E Di Castro. Che pareggia i conti per il Sassari. Al minuto 41 della ripresa. Deviazione di un difensore. Arriva poi la conclusione dalla distanza di Lorenzo Orlando. Il posizionamento di Marano. Perché di fatto poteva partire l'azione. Attenzione perché qui invece è Samotti a regalare il pallone all'Oru. Il Sassari. Attenzione alla progressione di Mamadou Coné. Che riesce ad andarsene in qualche modo. Di calciare verso la porta di Bonucci. E cercare l'1-2. E alla fine. Prima ancora del rinvio di Brian Bonucci. Arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro. La Sarnese. Per pochissimi minuti. Si vede sfumare. La prima vittoria a Casalinga.